Per dimostrare come vengono utilizzati in Toscana i finanziamenti erogati dall'Unione Europea, il presidente della regione Enrico Rossi ha iniziato un lungo tour, intitolato l'Europa in Toscana, che lo porterà nei prossimi mesi dentro moltissime aziende toscane che hanno beneficiato dei fondi europei. Il tour è iniziato in Maremma, toccando imprese con sede a Orbetello, Manciano, Scanzano, Cinigiano e Braccagni. Proprio questi territori, senza fondi UE, perderebbero... Dal 10 al 15% complessivamente la provincia di Grosseto su un budget generale distribuito su 7 anni, che è all'incirca di 3 miliardi, quindi provo a fare il conto, sono tante risorse, tante risorse che a loro volta poi funzionano da volano per attivare anche risorse private, soprattutto per attivare risorse private nelle imprese e nell'agricoltura. In questo caso invece si tratta di uno stanziamento tutto legato al pubblico. A Orbetello, Rossi ha visto all'opera un drone marino utilizzato per il campionamento delle acque e finanziato con 2 milioni e 285 mila euro del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'interno del progetto Retralax. Le tappe successive sono state a Manciano, per una visita al caseificio sociale ristrutturato e ammodernato grazie anche ai 700 mila euro dei fondi europei. A Scanzano, alla Cantina Cooperativa dei Vignaioli del Morellino, che ha ricevuto più di un milione di euro di contributi pubblici per i nuovi impianti e strutture. E a Cinigiano, per una visita ai laboratori Cretema, fondati nel 2016 da un consorzio di 6 imprese e l'Università di Pisa, per operare nel trasferimento tecnologico e nell'innovazione per le piccole e medie imprese. Ultima tappa della giornata, l'oleificio Olma di Braccagni, ristrutturato con un contributo di 800 mila euro.